In costruzione della città di Gerusalemme, gli ebrei che erano stati fatti prigionieri erano stati trasportati in Persia a lavorare per i loro vincitori. Era in costruzione una città per gli studi e le scienze, un progetto che era già costato molte vite umane. Avanti, muoversi! Muoversi! Mettete davanti un altro tronco! Forza laggiù! Forza! Gli ebrei avevano riposto la loro fiducia e ogni speranza in Daniele, un uomo benedetto dalla saggezza divina. Daniele, nonostante fosse ebreo, era stato nominato ministro dal re Dario ed era il suo favorito. Questo gli procurava molta invidia da parte degli altri ministri e principi. Torno subito, devo avvertire Baruc. All'orecchio di Daniele erano giunte voci che accusavano principi e ministri di corruzione e di maltrattamenti nei confronti del suo popolo. Ora, nonostante le obiezioni degli altri ministri, era venuto a constatare di persona. Allora, saggio Daniele, veri forse gente affamata? Sorveglianti crudeli? Stiamo forse utilizzando materiali scadenti? Piacchie, calunnie tendenziose, come puoi vedere tu stesso. False accuse inventate da gente ambiziosa che ha interesse a complontare. L'ambizione, una strana qualità dell'uomo, può essere costruttiva, ma anche distruttiva. I leoni di sua maestà sono stati spostati nel nuovo recinto, desideri vederli? Più tardi, principio Duman. Prima vorrei passeggiare un po' in questa città in costruzione. C'è sempre qualcosa da imparare. Ti accompagno io, se vuoi. No, vado da solo. Preferisco. Ti scongiuro di stare in guardia, Daniele. Questi ebrei sono traditori e infidi, e non si sa mai come la pensano. Ti stai dimenticando, principe Malimir? Che sono anch'io un ebreo. Padrone Baruch, i signori ministri del re sono arrivati con la splendida carrozza del principe Malimir. Il primo ministro Daniele è con loro? Sì, signore. Bravo. Un giocattolo costoso, mio nobile signore. Ci siamo arricchiti con questo progetto, principe Isar. Ma ti dirò una cosa. Non esiterei a darlo a chiunque mi liberasse del peso che ho sullo stomaco. Se Daniele scopre quello che abbiamo fatto, il re non avrà pietati noi. Avresti dovuto tirarlo dalla nostra parte, Isar. Avresti dovuto comprarlo. Non essere stupido, Duman. Daniele non si lascia né comprare né costringere. È per questo che Redario si fida di lui. È per questo lo ha fatto primo ministro invece di scegliere fra di noi, che siamo i veri principi dell'impero. Allora sarà bene che il tuo piano funzioni, Isar. Perché se non riusciamo a rovinare Daniele, sarà lui che rovinerà noi. Daniele ha una sola debolezza. Il suo dio ebreo che adora. E il nostro caro Redario ne ha una anche lui. La sua vanità. Se ognuno di noi sosterrà bene alla sua parte, non dovremo più preoccuparci di Daniele. Speriamo che anche i leoni del re che ti sono stati affidati sappiano fare bene la loro. Non darti pensiero di questo, nobile principe. Quelle bestiole sono state tenute a digiuno da un pezzo. Dalla. Mi servono altre pietre qui. Acqua, per favore. Da questa parte. Di qua. Giovanna. Cosa ci fai tu qui con le portatrici d'acqua invece di far lezione ai bambini? Che cosa potrei rispondere al nobile primo ministro dei Medi e dei Perfiani? Non devi biasimarmi, Giovanna, perché io servo Dio nell'alta carica che mi è stata conferita. Sono sempre e soprattutto un ebreo. Quanti bambini ebrei vedi morire di fame nel palazzo di Redario? Non posso risponderti, Giovanna. Farò quello che posso. Certo. Lo sappiamo che il nobile Daniele prega tre volte al giorno. Ma per che cosa preghi, Daniele? Spesso io chiedo a Dio di liberarci dalla schiavitù. Ma talvolta gli chiedo anche cose più semplici, come la comprensione e la pazienza. Giovanna. Giovanna, acqua. Perdonami, oh potente Daniele. Devo andare a prendere l'acqua per i nostri uomini assetati prima che i padroni ci tolgano anche quella. Baruch! Come stai? È la prima volta da sei mesi che vengo fra il mio popolo e trovo ostilità e il tuo sguardo è duro. Perché? Ho davanti il nobile primo ministro dei Medi e dei Persiani oppure Daniele. Se non hai timore dinanzi a Dio, non devi averne davanti a me. Questa città che deve servire come luogo di studio e di riposo per tutto il popolo ci sta distruggendo. Il tesoro reale ha destinato molto oro perché chi lavora qui venga ben pagato e ben nutrito. Allora si saranno arricchiti i ministri. Nessuno ci ha mai pagato. Se non a colpi di frusta. Le nostre famiglie stanno morendo di fame. Perfino le pietre con cui dobbiamo lavorare si sgretolano prima di poterle issare sul posso. Abbiamo pagato per il miglior granito delle cave del Monte Isso. Arenaria scadente, Daniele. Piena di crepe e difetti. Abbiamo perso molti uomini nel crollo delle strutture. Quelli che si lamentano o si rifiutano di lavorare spariscono di notte. Sono accusa tremenda queste parucche. Puoi provarmele? Guarda con i tuoi occhi. Sì, fammi vedere. Voglio vedere. Attento, fai indietro. Non sono stati nutriti da tre giorni secondo i tuoi ordini, principe Issa. Belli, così feroci. Ma la morte nella fossa dei leoni è riservata ai traditori. Il re ama Daniele come un fratello. Come puoi pensare che lo condanni per tradimento? Dario non avrà scelta quando avrà sottoscritto il mio decreto. Hai ragione. Daniele deve essere tolto di mezzo subito. Ma questo piano è davvero pieno di rischi per tutti noi. Già, la vecchia legge della prova alla pari. Siete proprio due stupidi. Preferite che Daniele riveli al re quello che abbiamo fatto qui? Preferite perdere la testa? Quale uomo potrebbe sopravvivere per dodici ore in una fossa con quelle bestie feroci? Sì, così va bene. Ora staccate i cavalli e portateli via. Ma cosa fanno alla mia carrozza? Con tutto il rispetto, signore, cosa ci fa la mia nuova e costosa carrozza laggiù? Mio nobile ministro, abbiamo un problema, un contrasto di opinioni. mio caro amico Daniele. Come procede la costruzione della città? Questa, mio nobile Dario, è una domanda alla quale non posso per ora rispondere. Ho capito. Deve essersi un problema. Amanti, amico mio, abbiamo risolto tanti problemi insieme. Si tratta di un contrasto di opinioni, Sire. I muratori ebrei sostengono che la pietra che è stata loro fornita è di qualità scadente e pensano che quella colonna non sosterrà il peso della pietra di coronamento. Temono per la loro vita, Sire. Mille volte perdono, nobile signore, ma il tuo ministro Daniele ha ritenuto opportuno mettere la mia preziosa carrozza laggiù. Gli uomini capicantiere del nobile Manimir dicono che gli operai ebrei sono scansa fatica e che vanno frustati. Che soluzione proponi, Daniele? Gli operai sono disposti a essare la pietra rischiando la propria vita se il nobile Manimir è disposto a rischiare la sua preziosa carrozza. Ma è inaudito, maestà. Decisamente il primo ministro esagera. No, no, non lo credo. Daniele è conosciuto per la sua giustizia e per la sua onestà. Questa colonna è salda oppure no? Certo, maestà, ma questi ebrei preferiscono lamentarsi invece di lavorare. Non dovrebbero esserci obiezioni se applichiamo la legge persiana della prova alla pari. Entrambe le parti rischiano di perdere una cosa preziosa. Quel che è giusto è giusto, maestà. Ma certamente la mia carrozza vale molto di più di una dozzina di ebrei. Procedete pure. 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 Cosa significa tutto questo, Daniele? Non lo so ancora con certezza, ma presto lo scoprirò. E quando avrò raccolto le prove, sarai tu a giudicare. È solamente un incidente di poco conto, maestà. E spero che tutto questo non guasterà i festeggiamenti che noi avevamo preparato in vostro onore. Festeggiamenti, nobili sar? Quali festeggiamenti? I tuoi fedeli ministri e i satrapi delle province desiderano offrirti un dono. E abbiamo voluto che fosse una sorpresa. Una sorpresa? Adoro le sorprese. Venite, desidero che siate tutti presenti. Vogliamo andare? Sire, ti chiedo il permesso di proseguire la mia ispezione. Vorrei salire al campo degli ebrei. Mi dispiace molto, Daniele. Tu sai bene che Daniele è il tuo servo più devoto. Se lui ritiene di dover andare, deve trattarsi di cosa molto importante. Bene, hai il mio permesso, Daniele. Andiamo, miei signori. Sono ansioso di vedere questa sorpresa. È per il profondo amore e rispetto che ti portiamo, potente re Dario, che oggi, nel giorno dell'anniversario della tua scesa al trono, desideriamo onorarti con questa nuova legge. Molto lusinghiera. È anche molto divertente. Facci la grazia di accettare. Di questo noi tutti ti preghiamo. Se ti degnerai di accettare, signore, il mondo intero saprà quanto noi, i tuoi principi, i tuoi ministri, i tuoi satrapi, ti onoriamo sopra ogni cosa, per tutti i tempi. Bene, leggimi questa nuova legge, Isser. Da questo momento in poi, per trenta giorni, nessun uomo, donna o bambino, pregherà o adorerà altro dio o re all'infuori di Dario, per trenta giorni sotto pena di alto tradimento. Questa sarà la legge decima dell'impero e non potrà essere revocata. Noi, principi e satrapi dell'impero, ti chiediamo di approvarla. Che sia incisa sui muri delle piazze di ogni città e villaggio dell'impero, cosicché tutto il mondo conosca la grandezza di Dario, re dei medi e dei persiani. Così deve essere. Così deve essere. Un tale onore non è mai stato conferito a nessun re dai suoi ministri. Ma questa legge farebbe di me un dio. Solo per trenta giorni, gloriosa maestà. Ora ti preghiamo, ti scongiuriamo ferma nella ratifica. Cosa ne pensa Daniele di questo onore che volete conferirmi? Ma è proprio per Daniele che ti presentiamo questa petizione. Sì, senza Daniele non ci avremmo mai pensato. Sai che non c'è onore che Daniele ti negherebbe. Il suo amore per te non conosce limiti. Daniele non avrebbe mai approvato qualcosa che non fosse giusta e buona. Allora, voi siete tutti... D'accordo? Con tutto il cuore e tutta l'anima? Così sia. Divina maestà, posso avere il permesso di portare subito la nuova legge agli scrivi affinché sia proclamata immediatamente? Abbiamo vinto, amici. Stasera, quando Daniele si inginocchierà in direzione di Gerusalemme e adorerà il suo dio, firmerà la sua condanna a morte. Allora, è tutto pronto? I testimoni? Dove sono i tuoi soldati, Malimir? Si nascondono aspettando il segnale. Venti paia di occhi lo vedranno leggere il proclama che ho fatto affiggere, venti paia di orecchie lo udranno infrangere la legge. Vorrei che fosse già finita, qualcosa potrebbe non andare. Che cosa potrebbe non andare? Tre volte al giorno, tutti i giorni, Daniele si mette alla finestra e prega il suo dio. Ma supponi che è venuta a conoscenza della nuova legge e decida di rispettarla evitando di pregare. Sappiamo tutti benissimo che Daniele non anteporrebbe mai una legge umana a quella del suo dio ebreo. È vero, è vero. E lo trovo anche molto divertente. Proprio il dio che adora sarà la causa della sua morte. Guardate, arriva. Non facciamoci vedere. Oh, siamo arrivati, grazie. È entrato in casa. Ma tra poco pregherà. Duman, fa prendere posizione i testimoni. Malimir, viene a vedere la volpe che cade nella rete. Presto, Malimir. Vai dai tuoi soldati e quando ci sentirai gridare, guidali qui. Oh, Signore, ascoltami. Oh, Signore, perdonami. Oh, Signore, prestami aiuto. Ti scongiuro, Signore. Tu che sei la fonte di ogni rettitudine e la sorgente della misericordia e del perdono, ascolta le preghiere dei tuoi figli. Aiutami a placare le sofferenze e raddrizzare i torti che ho visto oggi. Dacci forza nel tuo spirito affinché possiamo accettare il castigo per i nostri peccati. Ma dacci la speranza, oh, Signore, che un giorno il gioco della schiavitù sarà sollevato dalle nostre spalle. Ti prego, oh, Signore. Io l'ho visto! È un tradimento! 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 Altro tradimento contro Reddario! Tradimento! 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 È un sforzo tradimento! Non possiamo accettarlo! Tradimento! 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 È un tradimento! Cosa c'è? Cosa succede? Tradimento, nobile primo ministro. Già, proprio tu mi parli di tradimento, Duman. Sei stato tu a commettere tradimento, Daniele. Sei tu che hai infranto la nuova legge suprema. Indietro! Fate largo i ministri del re. Indietro vi dico. Daniele, cosa è successo? Questa brava gente è addirata, oh, nobile principe. Hanno visto e udito Daniele commettere altro tradimento o infrangere la nuova legge. Deve esserci un errore. L'onorevole primo ministro non violerebbe mai la legge. A meno che, naturalmente, non ne ignorasse l'esistenza. No, la conoscevo. Qualcuno si è preoccupato di fare in modo che la leggessi. Che fortuna che i soldati del re fossero nei pressi. Per salvaguardare l'ordine. O per arrestare qualcuno. Non oppongo resistenza. Onorati cittadini, dovete venire con noi al palazzo. Potrà servire la vostra deposizione di testimoni oculari. E così, onoratissimo sovrano, tutti i testi sono stati uditi e la loro deposizione è stata scritta. È stato provato, come lo stesso Daniele ammette e conferma del resto, che egli ha pregato e adorato il suo Dio ebreo. In aperto spregio e violazione di una legge sacra. Legge sacra? Quello stupido e pazzesco proclama che mi avete indotto a firmare? Ma, gloriosa maestà, apponendovi il tuo sigillo ne hai fatto una legge suprema e quindi una legge sacra. E allora io abrogo quella legge iniqua. Neanche un re può abrogare una legge suprema. È una cosa nota. Come lo è il fatto che io prego tre volte al giorno tutti i giorni dell'anno. Ammette di aver pregato un altro Dio, è tradimento. Alto tradimento, che la pena sia commisurata alla colpa. Mi avete ingannato facendomi firmare quella legge, ma non la userete per uccidere il mio amico più sincero e l'uomo più onesto del regno. Non siamo tutti vincolati dalle stesse leggi, maestà? Quelle leggi che ti fanno nostro re e ti conservano tale? Le stesse che ci offrono la giustizia della prova alla pari? Non farò gettare Daniele nella fossa dei leoni. Nemmeno per un'ora. È la mia decisione. Ti chiedo perdono, maestà. Ma Daniele è colpevole di alto tradimento di fronte alla legge. Fa gettare ai leoni quest'ebreo superbo e ostinato. E se dopo dodici ore Daniele sarà ancora vivo fra i leoni, allora noi, i tuoi fedeli ministri, prenderemo il suo posto nella fossa. Non hai scelta, Sire. Sei anche tu una vittima della legge quanto me. Daniele, io che avrei fatto qualsiasi cosa per salvarti, ti ho perduto per la mia vanità. Dobbiamo fare qualcosa. Non possono ucciderlo così. Invece lo faranno. Dovevano eliminarlo in qualche modo. Era troppo buono. Il disprezzo con cui l'ho trattato, di l'ania. Di l'ania la mia anima. Credevo che pensasse solo a se stesso e a servire i suoi padroni. Che posso fare, Baruch? Pregare per Daniele, Giovanna. E anche per noi. Senza di lui siamo soli in questo deserto di dolore. Isar, Principe Isar, vieni fuori, presto. Arrivano i prigionieri ebrei. Li vedi? Verranno a ucciderci. Non perdere la calma. Vengono a pregare per Daniele. Purtroppo questi satrapi di provincia gli sono ancora fedeli. Speriamo che le spese che abbiamo affrontato per questa festa servano a farceli amici. Spese? Hai parlato di spese. Ci è costato molto questa festa. Mio piccolo e grasso Principe, non posso far a meno di chiedermi se tu sei più avaro o più vigliacco. a meno di chiedermi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E se non potete... ...perdonatemi. Dimmi che questo Dio vivente che hai servito così bene e con tanta fedeltà... ...ti salverà dall'orrore che ti aspetta. Dimmelo. Se così piacerà a lui di decidere per i suoi scopi. Ma se sarò ucciso dai leoni, allora... vuol dire che anche questo servirà a qualcosa. Addio, mio re. Noi. Noi. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Maestà, abbiamo vino di Lidia, carne arrosto e musica. Onoraci della tua presenza.